ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello oggi torneremo a parlare del marchio parafernalia e lo facciamo grazie agli amici della stilografica di milano che mi hanno prestato questo esemplare ai fini della recensione bene l'hanno avvolto in una plastica probabilmente per proteggere l'involucro che è fatto in solido legno un cofanetto che rivela essenzialmente tre cose la stilografica in questione che mettiamo un attimo da parte la custodia e all'interno della custodia c'è vediamo se riesco a farlo uscire non una ma due cartucce ora essendo cartucce ad attacco proprietario questa volta ho dovuto proprio usare dovuto proprio usare una delle cartucce della confezione purtroppo non c'era alternativa non c'è altro nella nella confezione questa è una gomma piuma che ben diciamo svolge il ruolo di proteggere sia la stilografica che la sua custodia stilografica che triangolare indubbiamente di stile moderno la custodia si infila in questo modo qui c'è la clip e la la penna si infila così la custodia è cavo e triangolare purtroppo in pelle purtroppo perché come sapete il sottoscritto non ama gli oggetti in pelle ritengo che si possa fare a meno di importunare altre forme di vita per il nostro diletto e questa è la stilografica quindi parliamo della revolution big in titanio in questo caso nella colorazione argentata la penna è fatta da diciamo appunto corpo in titanio come vedete sono tre cilindri più uno centrale forma triangolare e una due tre quattro viti questa è veramente una stilografica molto molto insolita per cui la livrea è molto particolare e qui abbiamo la clip che diciamo praticamente contrasta un eventuale tessuto che scorre lungo questi due cilindri e tiene ferma la stilografica la stilografica ha un certo un discreto peso e si estrae così si estrae il corpo di scrittura è nascosto questo è un intero cappuccio praticamente e poi facendo passare la stilografica all'interno si blocca con un clic sulla parte finale del cappuccio che poi sarebbe un contro cappuccio questo perché evita che si secchi l'inchiostro in punta la stilografica come abbiamo visto prima è una stilografica a cartucce e non l'ho ancora provata perché volevo farvi notare questo meccanismo di foratura della cartuccia proprietaria ora non ho ben capito se queste cartucce le fanno ancora oppure no in ogni caso nel dubbio per un eventuale acquirente gli suggerirei di tenersi la cartuccia e siringarla perché a che io sappia non esistono converter con questo tipo di attacco però devo dire che mi sono informato forse troppo poco ad ogni modo ecco adesso abbiamo forato la cartuccia e possiamo rimettere il fusto in metallo cartuccia comunque molto capiente devo dire il pennino noto che è orientato verso il basso a questo punto rimetto la stilografica in posizione di riposo e aspetto che l'inchiostro vada in punta prima di iniziare a scrivere e fare quindi poi la recensione a tra poco a questo punto rimetto la stilografica in posizione di riposo e aspetto che ho fatto in Continuita di flusso. Il pennino si comporta piuttosto bene, non perde neanche un colpo, anche con scrittura veloce. Vediamo la variazione di tratto con il solo peso della penna, schiacciando un pelino il massimo a cui posso spingere. Come potete vedere è un pennino decisamente rigido. Bene, a questo punto scriviamo la pagellina solita, come sempre scrivo tutto, commentiamo la fine. Allora, flusso 10 su 10, sicuramente abbiamo visto che è abbastanza abbondante. Continuativo, anche in fase di scrittura veloce, e ha un feedback decisamente che dà controllo ma non gratta. Considerate che parliamo di un tratto fine medio, come ho scritto qui sopra, per cui sarebbe anche prono a dare un eccessivo feedback. Invece no, io lo trovo veramente scorrevole. manutenibilità 10 su 10 perché è una penna a cartucce, per cui si smonta qui, si svita e si sostituisce la cartuccia o meglio ancora la si siringa perché queste cartucce non sono più prodotte. Sono distribuite per quanto rimane. Il produttore, mi risulta da rumors di corridoio, che non le produca più. credo che sia proprio chiuso il produttore. Per cui non parlo ovviamente di parafernalia ma del suo fornitore di cartucce. Ora, la sfida è aperta. Chi di voi ha una stampante 3D riesce a riprodurre una cartuccia attacco Austria per la Big Revolution? ai follower l'hardua sentenza perché comunque vedo uno spessore decisamente sottile. Però, diciamo, ecco, non avete molto gioco per produrla, nel senso che il fusto è altrettanto sottile. È una vera sfida, però magari si riesce, non lo so. Per quanto riguarda l'impugnabilità, qui andiamo sotto la sufficienza perché l'unico modo veramente comodo di impugnarla per me è estrarla dal cappuccio, non usarla col cappuccio calzato perché qui riesco ad avere una sensazione alla quale sono avvezzo, cioè uno strumento di scrittura, adesso è rimasto fuori dal cappuccio per un bel po', quindi si tende a seccare un po'. Però, se la uso con, quindi 5, sicuramente ad impugnarla così perché per me è troppo sottile. Quindi ho le mani decisamente grosse per questa penna. Una persona con mani piccole, minute o delicate, comunque magari ci può fare un pensierino. Se avete le mani grosse come le mie vi troverete con un'impugnatura con cappuccio calzato, però ci sono dei difetti perché praticamente lo svaso finale, scusate, la convergenza finale della sezione tende a lasciare più spazio in questo triangolino finale, nel buco del triangolino finale. Per cui, se nel mezzo avete poco gioco per far ballare l'anima di questa penna, verso la fine non è così. Per cui, a contatto col foglio, se premete un attimino di più, sentite oscillare. E questo può anche non far piacere, perché sentite la resistenza qui e qui, che è tenuta ben ferma, ma qui no. È una cosa molto sottile, molto fine da percepire, non è così lampante. Però la segnalo c'è, ed è per questo che do l'insufficienza. Non credo che sia esattamente la penna più impugnabile del mondo, per la mia percezione, ripeto. Sono sicuro che tra voi ci sarà qualcuno che ha esperienze decisamente migliori. La forma triangolare nel mondo delle stilografiche non è una novità. Il più famoso esemplare della Omas 360 ha diviso, ha fatto da sparti acqua nella comunità stilografica internazionale, perché c'è chi si trova bene e c'è chi si trova male con l'impugnatura a triangolo. È soggettivo, sicuramente. Di certo questo non è un triangolo che vi offre sostegno in ogni sua parte, perché qui le vostre dita entrano dentro, diciamo, il cappuccio, ok? Perché non sono limitate, qui si entra dentro, ok? È da tenere conto. Quindi potreste trovarvi bene, potreste non trovarvi bene. Il mio suggerimento spassionato è, se c'è un rivenditore che la vende, andatelo a trovare e provatela, impugnatela prima di acquistarla. Altrimenti, se acquistate online data la pandemia, non è poi così un dramma se vi accordiate prima con il vostro rivenditore di fiducia, dicendogli magari la provo se non dovessi trovarmi bene, pur di non avere sessioni di scrittura che non mi soddisfano e magari farla finire in mani che la sanno apprezzare di più, forse è un pochino meglio provarla, perché è singolare come impugnatura, solo questo. Bilanciamento, 8 su 10 perché non è sbilanciata, è leggermente indietro rispetto al centro della penna con cappuccio calzato, senza cappuccio calzato siamo sulla stessa lunghezza d'onda, forse addirittura ancor più indietro, per cui ho tolto due punti. Materiali, 7 su 10 perché parliamo di pennino in acciaio, cartucce in plastica, quindi un meccanismo di caricamento non eccessivamente dispendioso, però credo che qui i metalli utilizzati siano abbastanza di pregio da non far scendere ulteriormente questo voto. Rapporto qualità-prezzo, considerato che la manifattura ha poche sbavature, se non nessuna, cioè io qui noto questo piccolo spazio grigio nel controcappuccio che sarà un lievissimo tema di assemblaggio, ma per il resto non noto sbavature di nessun tipo nella manifattura della penna, per cui la qualità è decisamente buona, scrivere scrive assolutamente bene, e per quanto riguarda il prezzo, allora so che sono state immesse sui 115€, poi c'è chi la vende di più, c'è chi la vende di meno, allora è sicuramente un parere soggettivo, dal mio punto di vista 7 su 10 e va bene così, perché comunque scrivere scrive bene, meglio di molte altre penne più blasonate che appena acquistate fuori dalla scatola non lasciano un tratto continuo così, qualche perplessità che riguarda diciamo l'usabilità, ecco una grandezza che non ho mai tenuto in considerazione più di tanto, perché di norma le stilografiche hanno un design tale che le rende facilmente impugnabili, più o meno facilmente manutenibili, insomma dipende. Ci sono molti modelli da esposizione, questo forse potrebbe rientrare tra i modelli da esposizione, oltre che da utilizzo, perché abbiamo visto che si può usare, si usa benissimo, ma soprattutto per chi ha mani minute e può usare quest'anima senza farsi problemi di calzare il cappuccio. È un oggetto da esposizione perché è un oggetto da design, cioè si vede un design modernista sicuramente aggressivo, arrogante nei confronti del mercato, cioè qui è tutto design, mi faccio pochi scrupoli su vi trovate bene, vi trovate male. Io vi propongo un design insolito e questo è il pensiero che ha governato chi ha progettato questa penna. Per cui sicuramente la vedo su un tavolo di un architetto che fa design di interni moderni, la vedo su un tavolo in vetro, questi ambienti un po' minimalisti, do le forme squisitamente geometriche, cioè c'è chi ha un gusto di questo tipo. Non incontra il mio gusto personale se siete curiosi al riguardo, non soddisfa pienamente i miei canoni di scelta di una stilografica da un punto di vista estetico, ma riconosco una originalità estrema. Io nell'ambiente stilografico internazionale non ho ancora visto un esemplare simile a questo, per cui senza dubbio tanto di cappello all'inventiva, al coraggio e all'originalità. Bene, direi che per questa penna è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video fin qui, ringrazio gli amici della Stilografica Milano per avermi prestato questo esemplare e vi do appuntamento al prossimo video, incoraggiandovi a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, in questa maniera potrete facilitare l'arrivo del mio canale sotto gli occhi di più persone. E perché no? Se vi è piaciuto il video cliccate sul like, se non vi è piaciuto cliccate sul dislike, insomma in ogni caso fatemi sapere cosa pensate e della penna, della stilografica e anche di questo video, perché no? Grazie a tutti e al prossimo video stilograficamente parlando. Ciao!